Argomento evoluzione, argomento noiosissimo ormai per quello che riguarda specialmente i paesi anglosassoni dove è il dogma, dove è un dogma, evoluzione non si discute, se parli contro l'evoluzione in America è come se parlassi al Vaticano contro l'inferibilità papale, ma nell'evoluzione esistono tutta una serie di cose non ancora chiarite, come fa, come faceva? Sapete come è fatto un triceratopo? Il triceratopo è quello con le creste, una specie di popotamo con le creste e che gli corona anche lungo il dorso, come ha fatto a fare le creste il triceratopo? Come ha fatto a modificare la sua struttura ossea? Non lo sappiamo, non lo sappiamo, e se noi lo capiamo capisci la soluzione che viene, capisci quello che viene fuori da questa cosa qui? Che nuovo orizzonte tremendo è? Se tu riesci a capire come il triceratopo ha fatto le sue, e ci sono ipotesi, una più interessante dell'altra, vabbè questo è l'indice, poi via via che ne parliamo, ogni uovo di Pasqua si apre per conto suo, ogni uovo di triceratopo si aprirà per conto suo.